Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Dal nome è per l'uscita dell'Italia dall'Europa? Sì, ovviamente all'articolo 1 dello statuto propone l'uscita dall'Unione Europea dall'Eurozona. Non mi sembra che l'Unione Europea... Io voglio soltanto ricordare ai cittadini quello che diceva Prodi come grande spot a favore dell'Europa. Lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo come se avessimo lavorato un giorno in più. Mi sembra che proprio il problema dei salari sia oggi all'ordine del giorno sui salari minimi. Che è un tema che tra l'altro anche qui è molto propagandistico. Perché nella Costituzione italiana, l'articolo 36, è già scritto come deve essere la retribuzione. L'attribuzione deve essere parametrata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque non deve mai ledere la dignità del lavoratore e della sua famiglia. Quindi sono già stati i padri costituenti a mettere una soglia nella parola dignità, che è una parola che ormai è scomparsa totalmente dal lessico della politica, così come è scomparsa l'espressione piena occupazione. Quindi o ragioniamo sull'economia reale, sull'occupazione, su come creare le condizioni della piena occupazione, come favorire il tessuto della piccola e media impresa anziché continuare a aprire autostrade a favore delle multinazionali, oppure l'Italia non ne esce. L'agroalimentare, soprattutto adesso che siamo in un periodo di gravissima emergenza data dalla siccità, l'agroalimentare va sostenuto, come lo sostieni? Con finanza pubblica. E allora dobbiamo fare delle scelte. O stiamo dietro l'economia a trazione finanziaria, che voglio dire all'Italia non ha mai portato alcunché, o stiamo dietro un'economia che è l'economia reale, che è da lavoro, per cui il made in Italy è conosciuto nel mondo. È una questione di scelte. Sul radar di Draghi l'economia reale non c'è. Sul radar di Draghi c'è l'economia a trazione finanziaria, c'è l'identità digitale, c'è creare le condizioni, perché Big Pharma, anche su questo secondo vaccino, abbiamo sentito il CEO di Biontech rilasciare un'intervista al Financial Times, dove dice che abbiamo fretta, dobbiamo fare in fretta e dobbiamo anche superare eventuali test di sperimentazione, perché dobbiamo mettere sul mercato il secondo vaccino rispetto alle varianti. E allora se andiamo avanti in nome dell'emergenza, noi spacchiamo il tessuto sociale. Se poi la gente si opporrà all'obbligatorietà vaccinale per professioni piuttosto che per anagrafe, va capita questa gente, perché stiamo comprimendo le libertà e i diritti fondamentali, altro che la paura che Vox in Spagna vinca le elezioni o la paura di uscire. Fra un po' sarà la gente a dire, noi vogliamo uscire da questa gabbia, che si chiama Europa, o da gabbia che si chiama neoliberismo. È inutile, potete raccontarla come volete, ma tanto la spinta parte dal basso. Allora, su questo diciamo questa è la cosa interessante, dopodiché la spinta ad uscire, come giustamente diceva anche Francesco Levo, finalmente l'abbiamo avuta perché ci siamo vaccinati. Eh, se no un exit lo facevamo da un'altra parte. E anche quando abbiamo preso il Covid l'abbiamo preso. Ma figurati, finalmente ci siamo vaccinati. Eh sì, sì, Gianluigi. Mia mamma ha 80 anni, ha avuto il Covid, ma senza vaccino non l'avrebbe superato. Mi ha fatto l'omicron, bene, mia mamma ha 80 anni, si è fatto l'omicron e non è successo nulla. Eh, però forse non aveva le complicazioni che ha la mia, capisci, che poi alla fine... Ho capito, ma allora il problema non è dare l'obbligatorietà vaccinale erga omnes, lo vogliamo capire oppure no, perché con l'obbligatorietà, signori, non si otterrà alcun che... Anzi, si otterranno persone che si sono fatte la seconda dose e che hanno capito che l'immunità non c'è e che le complicazioni invece ci sono e nessuno le vuole guardare. Questo è il motivo per cui Big Pharma chiede di mettere sul commercio senza sperimentazione anche il nuovo vaccino. Su questo faremo un'altra puntata. Adesso andiamo in pubblicità perché ho un tastativo, poi riprendiamo.